Sembra che possa succedere qualsiasi cosa. Ti sto chiedendo soltanto di tradire mia sorella. Vorrebbe fare il cacciatore, ma... Vorrebbe fare il tiramisù, ma... Devi dirmi qualcosa. Per fortuna, a sua moglie riesce bellissimo. Non lo faccio più. Lei ti mostra una cassata, tu io la pensi e le fai scontri nella cassa. In che senso? Vittoria Puccini, vicini di Fabio De Luigi. A lei, tiramisù. L'importante è la mira. Regia di Fabio De Luigi. In Prima TV da giovedì 1 marzo su Premium Cinema.